Non è una novità che nonostante la separazione Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore abbiano un bel rapporto. Da anni ormai, per il bene del loro figlio ormai adolescente Nathan Falco, trascorrono feste e vacanze insieme, come una coppia, ma ultimamente sono più vicini che mai. Tra l'altro lei, attuale conduttrice di «Questioni di stile», ha da poco rotto con l'imprenditore Giulio Fratini, quindi è tornata single. Flavio Briatore non l'ha mai lasciata sola. A settembre ha dovuto affrontare due ricoveri in ospedale a causa di una grave infezione alle vie urinarie, ed è stata in ospedale per oltre dieci giorni e durante questo periodo a tenerle la mano e tirarle su il morale c'erano proprio l'ex marito e il figlio. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, più che uniti, il gossip bomba. Nonostante il divorzio, che come detto risale ad anni fa, lei è rimasta a vivere a Monte Carlo per stare vicina a Nathan, che ora è il collegio in Svizzera, e durante un'intervista ha confessato che a cena sono sempre loro tre insieme, spesso a casa Briatore. Lui è anche ospite fisso di Elisabetta Gregoraci nel suo nuovo show su Rai 2, dove i due raccontavano aneddoti e retroscena sulla loro lunghissima storia d'amore. E proprio durante questo programma, o meglio durante un fuorionda, alla conduttrice è scappato un, se si risposa io lo ammazzo. E ora diva e donna sgancia una vera bomba di gossip, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, si risposano, si legge sulla copertina dell'ultimo numero con tanto di foto dei due insieme durante una romantica cena a lume di candela. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma di certo la complicità tra i due continua a crescere.